Secondo la tua esperienza, quanto il cloud e le sue regole cambieranno il mondo dell'IT, il nostro lavoro sull'IT? Lo cambieranno pesantemente. Io quando vado dai clienti dico sempre OpenStack è una tecnologia, ma il cloud è una filosofia. L'approccio del cloud significa un po' ribaltare l'azienda, pensare in una maniera differente. Quindi questa cosa impatterà sicuramente il mondo dell'IT. Pensare in modo differente, questa è la chiave, secondo me è davvero molto molto importante.